E' una cosa che tutti quanti costatiamo, basta aprire gli occhi. Il nostro mondo è soprafatto dalle immagini. E quindi ci dobbiamo chiedere questa preponderanza, questa invasione, questa colonizzazione dei nostri immaginari da immagini imposte dai social media, dai mass media. Questo consente alla nostra immaginazione, sì o no, di essere libera, creativa, attratta dal bene, aperta alla bellezza e alla ricerca della verità. Temo che il più delle volte la nostra immaginazione sia ormai debole, insabbiata, impantanata, in immaginari impostele dall'esteriore. E allora ci spetta quali cristiani chiederci come la rivelazione cristiana e la nostra risposta con la fede possa coinvolgere la nostra immaginazione in modo tale di essere esseri liberi e felici. Questo è un po' il nocciolo, ciò che mi ha spinto a lavorare dal punto di vista teologico il ruolo dell'immaginazione in teologia fondamentale. Cos'è l'immaginazione? È una cosa che ho indagato per ben tre anni come lavoro dottorale e ho pubblicato in francese, prima, poi in italiano, la mia ricerca grazie all'immaginazione, integrare l'immaginazione in teologia fondamentale. Tutti i grandi filosofi della tradizione occidentale hanno affrontato la tematica dell'immaginazione, però non sono riusciti ad accordarsi fra di loro per sapere cosa fosse, cosa facesse. Io direi semplicemente che l'immaginazione è ciò che in noi riceve e forma delle immagini, delle cose e delle persone. E in quanto immaginazione impattata da Gesù Cristo, il suo ruolo è di immaginare il reale, di immaginare la realtà, di non fermarsi alla superficie delle cose, ma di indagare in profondo. Mi spiego. Prendete, ad esempio, le beatitudini evangeliche. Quando Gesù proclama beati, felici, coloro che, secondo le apparenze e le sembianze umane, soffrono, lui ci sta chiedendo uno sforzo immaginativo, di seguirlo sulla via dell'immaginazione per scoprire ciò che sta in profondità come realtà fondamentale delle cose. E quindi spetta ai predicatori cristiani, ai sacerdoti, ai vescovi, ai diaconi che predicano l'omelia, soprattutto nell'eucaristia domenicale, di andare a cercare in profondo ciò che vivono le persone a loro affidate in parrocchia e poi anche di rispondere con l'immaginazione. Io mi sono mosso a studiare dal punto di vista teologico l'immaginazione proprio perché, dopo aver lavorato due anni quale cappellano universitario in Francia, mi era sorta la domanda come possiamo predicare in un modo più attraente, più giusto, anche più veritiero, più conforme al Vangelo a questi giovani. E man mano, studiando, mi accorsi che era proprio mediante l'immaginazione. Ora, la stessa Bibbia, la Sacra Scrittura, è strapiena di cose immaginali, le parabole di Gesù, ma anche le cose più fantasiose e apparentemente, magari, estrose della Apocalisse. Pure le metafore dei salmi o le similitudini che fa San Paolo nelle sue lettere. Tutto questo ha nutrito la fede cristiana ed è perciò che il mondo cristiano ha prodotto anche, mediante l'immaginazione degli artisti cristiani, dei predicatori eppure dei teologi, una opera così grande. Le nostre cattedrali, i ritratti dipinti, i canti, gli inni, le musiche, tutto ciò che è sorto dalla recezione del Vangelo nelle nostre immaginazioni, ha prodotto una qualità immensa di opere sorte dalla fede cristiana. E' ciò che ho cercato di spiegare, quindi nella mia ricerca dottorale, poi in questo libro, che, per farla breve, ha tre parti. Una prima parte che sono prolegomeni, cioè per prepararci, per preparare il lettore a indagare in un secondo momento una teologia speculativa dell'immaginazione, bisogna prima chiedersi, dal punto di vista filosofico, capitolo 1, cosa sia l'immaginazione, a che cosa serve. In un secondo momento, capitolo 2, chiedersi come la stessa Bibbia ha usato la immaginazione nelle parabole e nell'Apocalisse. Poi, una seconda parte, come dicevo, speculativa, una parte, capitolo 3, sulla rivelazione, come Dio stesso si è rivelato all'uomo, all'umanità intera, mediante l'immaginazione dei profeti, mediante la creazione. E poi, capitolo 4, come l'uomo ha risposto a questa proposta immaginativa, immaginifica da parte di Dio con la sua fede. In una terza e ultima parte, poi ho cercato di verificare il mio modello teologico con un capitolo dedicato alla spiritualità ignaziana, quale gesuita non potevo fare a meno che indagare come l'immaginazione ci serve per contemplare Gesù nel Vangelo e cercare di conformare la propria vita a ciò che Lui ci insegna, nelle circostanze di tempo e di luogo dove noi stessi viviamo. Poi, in un sesto capitolo, ho cercato di capire come la liturgia, cioè la preghiera comune dei cristiani, anche ricorre alla nostra immaginazione, nella predicazione, ma anche nei gesti che facciamo assieme durante la liturgia. E poi, in un settimo e ultimo capitolo del libro, ho cercato di mostrare che l'immaginazione, pure nelle nostre circostanze, informa come ci muoviamo, la nostra etica. Cioè, se io sento nel Vangelo Gesù che guarisce un lebroso e nel contesto dove vivo io non ci sono lebrosi, allora mi devo chiedere, chi sono i lebrosi del mio tempo? Oppure, se io sono un lebroso rispetto a Gesù, come mi posso lasciar guarire da Gesù? La posta in gioco semplicemente è quella di rendere la nostra fede reale, sempre più realista. E, cioè, direi che c'è nella immaginazione una gioia, una grande gioia quella di condividere la libertà del Dio creatore, che mediante la propria immaginazione ha creato questo mondo nel quale viviamo, e anche di condividere la gioia e le sofferenze del Dio Redentore, che in Gesù Cristo è venuto a condividerci la sua potenza immaginifica e a salvarci. Un esempio probabilmente molto noto da tutti quanti hanno frequentato i padri gesuiti o una delle nostre scuole, magari uno dei nostri centri spirituali, è quello dell'uso dell'immaginazione nella preghiera personale. Cioè, è solito per i cristiani pregare con delle parole, il rosario, eccetera, ma pure il rosario, ad esempio, ha come meta quella di contemplare la vita di Gesù. Cioè, io mi posso impegnare, forse non sempre, ma alcuni giorni, quando prego il rosario di muovere la mia immaginazione proprio ad immaginare il mistero che sto contemplando, i misteri gioiosi dell'infanzia di Cristo, quelli più dolorosi, di immaginarlo che soffre e mi sta redimendo, oppure di condividere con lui la gioia della risurrezione immaginandomi Gesù risorto che incontra sua madre, che incontra gli apostoli e poi li manda in missione. Anche possibile, come dicevo, per quanti conoscono la spiritualità ignaziana, di utilizzare la propria immaginazione per immettersi in una scena evangelica e cercare di renderla più reale per me. Non si tratta di fare un cinema, un filmino in testa, nel senso di ricreare tutte le circostanze storiche esatte, ad esempio dell'infanzia di Gesù, della sua nascita a Betlemme, bensì, come propone Sant'Ignazio, di immaginarmi come un servo presente al presepe e che cerca di prestare servizio a San Giuseppe, alla Madonna, per rendermi conto che anch'io mi posso mettere al servizio di Dio e così via nel mondo nel quale io vivo. Ecco quindi un esempio di utilizzazione dell'immaginazione cristiana nella preghiera personale e poi, se sono un poeta, uno scrittore, anche se vengo a dialogare con persone non cristiane, posso cercare di usare la mia immaginazione per trovare delle analogie che rendono la proposta della fede cristiana più sensata per oggi. Se io non vivo in un mondo agricolo dove le metafore, le parabole di Gesù, che sono quasi tutte agricole, hanno un senso, allora posso cercare di individuare altri elementi della mia cultura che renderebbero più udibile la proposta di amore che Dio ci fa nel Vangelo. Ciò che mi ha colpito molto durante la presentazione del mio libro è che ci siamo mossi tutti assieme, tutti quelli che stavano al tavolino, sul palco, ad utilizzare la propria immaginazione, ciò che non sempre o non spesso infatti accade in ambito accademico. Cioè il padre decano che ha iniziato con una storia relativa ai suoi nipoti con delle risonanze escatologiche, cioè sulla morte del cane e come andrebbe in cielo o meno, se Gesù gli darebbe un osso. Oppure la storiella che il padre direttore del Dipartimento di Teologia Fondamentale ha usato per farci capire che in teologia la posta in gioco è veramente vita o morte e che spetta all'individui capire e cogliere questo. Oppure Monsignore Sequeri, quando ci ha parlato della seconda metà del proslogion di Sant'Anselmo, parlando con una immagine che lui stesso ha portato, come o con quanta premura Dio si occupa di tutte le sue creature, persino questa formica che zampetta, come diceva lui, oppure in ultimo luogo quando la professoressa Morra ha parlato di questo romanzo di Marilyn Robinson dell'incontro fra questa donna che si è allontanata dalla fede e il pastore protestante arrivando a condividere delle domande a livello zero. Io credo che tutti questi luoghi che sono lontani dai concetti hanno consentito a quanti partecipavano a questa presentazione del libro di cogliere che la teologia non è soltanto un giocare in modo astratto con concetti, ma è una cosa che incide sulla vita pratica, la vita concreta, che viene a rispondere e a interrogare le nostre prassi quotidiane.